Germani versus Gotti, Michal. E la batteria Sina C ha cominciato a lotterare il rostro dell'Evrica Rinaldi. Attilio sputtivo italiano da Sina C-Maelza. Puglielmo sputtivo. Arabello Rossi Sina Coba. 0-0. Dopo poco più di 30 secondi. Noi. Lec, action. Lec, action. Ok. Lec, action. Vengono chiamati in trenta secondi. Punto per allenarmi. Andro a Ginecola. Vengono chiamati in trenta secondi. Activity time for Germany. At one point for ECO. USA. Jack. The red. Beat it. Vengono chiamati in trenta secondi. Vengono chiamati in trenta secondi. Vengono chiamati in trenta secondi. Trifo. Tensio. Tensio. Grazie. 15 secondi al termine del primo tempo, 16 secondi per la ricariana. E si conclude il primo tempo con il vantaggio della nostra Enrica Rinaldi per un 1-0 sulla Gignacco. 5.0. 5.0. 5.0. 5.0. 5.0. 5.0. 7.0. 6.0. 5.0. Il vantaggio per Elie Carinaidi, 1-0 per lei, sulla decreta della Mila Rusca, a Ziliekova. Adesso però ci sono i 30 secondi di più di talani, Elie Carinaidi. Deve necessariamente cercare di appicciare tutti per non averne uno contro. Forza Enrica. Il vantaggio per Elie Carinaidi è che ha avuto un punto diverso dalla facilità. Il vantaggio per Elie Carinaidi è che ha avuto un punto di facilità del vantaggio da Ziliekova. Quindi ancora vantaggio a Italia, 1-0 per lei. Il vantaggio per Elie Carinaidi è che ha avuto un punto diverso da Ziliekova. Continua a tenere nel centro della Tazilie. Viene fermata la Ziliekova a 30 secondi. Supercellente. No! E Enrique Carinaidi è che ha avuto un punto diverso dal suo studio di QTSS. e ancora è ricarinato l'attacco del tremendo il battaglio con il suo e ancora passa l'indaggio è ricarinato